L'allegria e il coinvolgimento che riescono sempre a regalare l'orchestra giovanile della scuola salvo d'acquisto del comprensorio numero 1 hanno reso speciale il taglio del nastro per la nuova copertura del mosaico romano. Una struttura in acciaio, vetro e corten che valorizza il mosaico prolicromo del IV secolo d.C. e restituisce trasparenza alla piazza all'interno dell'area del quadriatro archeologico. È l'opera simbolo del nuovo modo di procedere dell'amministrazione comunale che nella scelta dell'elaborato più adeguato si è avvalso di un concorso di idee aprendosi ai giovani professionisti e che ha visto cadere la scelta eseguita da una commissione di tecnici sul progetto degli architetti Lucia II, Stefania Giardinelli e Alessandro Vitale. Mosaico che diventa il simbolo della città di San Salvo e che ben rappresenta l'identità di questa comunità, segno tangibile di una storia antica dove si è coltivato anche il culto della bellezza. La struttura rappresenta un forte valore simbolico per la nostra città, intanto perché rende finalmente fruibile questo importante patrimonio archeologico che abbiamo ed è rappresentato in questo caso appunto dal mosaico. Rappresenta però anche una serie di valori della comunità di San Salvo e dell'amministrazione, ben rappresentati proprio dalla struttura in vetro, il vetro che è di per sé trasparente e testimonia non solo questo nuovo modo di amministrare la città improntato alla trasparenza come principio cardine di tutto agire amministrativo ma anche come riconoscimento per un'azienda che è la Pilkington e che ci ha fornito a titolo gratuito questi vetri che ancora una volta con questa opera dimostra il suo forte legame indissolubile quasi direi con la comunità san salvese, con il suo patrimonio archeologico, culturale e anche sociale. Un'opera che dicevo dimostra non solo la trasparenza ma anche l'idea concreta che si può e si deve riconoscere il merito perché questa è un'opera frutto di un concorso di idee che ha premiato, che ha visto partecipare tantissimi talenti in ogni parte del territorio italiano e ha premiato giovanissimi e giovani architetti per fortuna abruzzesi e quindi c'è stata una selezione pubblica aperta su tutto il territorio nazionale per la progettazione. Tutti i progetti sono stati visionati ma la Grautoria è stata redatta da una commissione di tecnici non scelti dalla politica, da nessun politico di turno ma dall'ordine degli architetti e degli ingegneri di Chieti, una commissione in cui ha partecipato la sovrintendente dei beni archeologici di Abruzzo, la professoressa Amalia Faustoferri che io ringrazio per averci saputo consigliare, sostenere, aiutare a scegliere peraltro quella che è la soluzione che è riuscita a coniugare l'esigenza dell'amministrazione di gestione del patrimonio comunale, esigenza di riqualificazione urbanistica con quella che era l'esigenza anche di conservazione del patrimonio culturale. Il mosaico di San Salvo ha delle peculiarità uniche almeno da quello che sembra? Sì assolutamente sì, per la tipologia, per quello che rappresenta, per la sua conservazione nonostante le lacune è conservato molto bene ed è unico al momento in Abruzzo di questo tipo. L'impegno della sovrintendenza anche per conservare questi beni? Allora l'impegno della sovrintendenza è quello di collaborare con il comune di San Salvo che ha già fatto quest'opera egregia, adesso il lavoro non è finito però noi vi guideremo per completare il lifting di questo mosaico si è fatto il lifting della piazza, adesso si farà il lifting del mosaico riempiendo come dicevano i ragazzi che hanno lavorato, sono giovani studenti ma anche laureati già dell'Università di Chieti loro hanno già preparato un progetto di base su quello che potrebbe diventare questo mosaico Allora non ci resta che aspettare? Sì però insomma bisogna organizzare come al solito con un po' di pazienza, un po' di tempo ma ce la faremo anche questa volta Qual è la caratteristica della struttura che avete realizzato con il vostro elaborato? Allora sicuramente quella che tramite i materiali utilizzati cioè l'acciaio, l'acciaio corte e il vetro nella sua semplicità e in un disegno minimale architettonico riesce a rivalorizzare il suo contenuto quindi ponendosi non come una ricostruzione del passato ma come un supporto per valorizzarlo per far appropriare i cittadini di questa identità e quindi in modo semplice minimale ma anche molto moderno andarsi ad inserire in un contesto storico consolidato La piazza con questa struttura viene restituita alla città? Assolutamente sì Sì, quest'opera ridona tutto il suo splendore di quel mosaico che non tutti i nostri cittadini conoscevano quindi ecco perché l'idea di un'opera trasparente con il perimetro a vetro per poter donare la visibilità a tutti i nostri cittadini e non Il concorso di idee è stata una grande trovata? Una grande trovata, un grande successo abbiamo circa ottenuto 35 progetti su quest'opera e con una commissione presa dall'albo degli ingegneri e degli architetti della nostra provincia abbiamo esaminato e questo è il risultato finale di questo concorso di idee il progetto primo classificato abbiamo ricevuto circa 35 progetti quindi siamo veramente entusiasti di aver effettuato quest'opera che era inserita nel programma elettorale del nostro sindaco Quest'opera con il mosaico romano sono certa che non solo simboleggia una serie di valori di questa città che ancora una volta dimostra la sua capacità di coniugare il nuovo con l'antico non solo la tradizione con il futuro ma è testimonianza soprattutto di una nuova consapevole modalità di agire dell'amministrazione comunale e sarà l'emblema della nostra città di una nuova consapevole modalità di agire Grazie a tutti. Grazie a tutti.